Sono stati messi a punto alcuni interventi neurochirurgici per la nevralgia al trigemino. Alcuni sono stati sostanzialmente abbandonati perché consistevano nelle bruciature del nervo, diciamo così, o per via elettrica o per via chimica. E quindi in qualche modo si andava a creare una lesione del nervo. Oggi l'intervento più accreditato, quindi più efficace e allo stesso tempo meno invasivo, è il cosiddetto intervento MVD. MVD vuol dire microvascular decompression, cioè decompressione del nervo trigemino che è compresso da un'arteria anomala.